Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso San Maurizio, nostro Patrono, insigne martire della fede in Cristo, aiutaci ad essere testimoni fedeli, di speranza in Dio, e di carità al prossimo nel servire, e donare la vita fino alla morte. O grande Capitano della Legione Tebea. Armata con principi evangelici e ideali cristiani. Rendici forti nell'amitezza e nel perdono. Resistenti nell'umiltà e nella non-violenza. Impegnati nella giustizia e nella carità. Anche dentro contrarietà e persecuzioni. Martire Santo. Con i tuoi compagni. Prega per noi. Perché non rinunciamo a promuovere i diritti di Dio. E la dignità dell'uomo. Perché non ci scoraggiamo. Per i sacrifici, nel compimento dei doveri religiosi e morali. Perché non ci ritiriamo dalla solidarietà. Ed ora. Per i meriti del tuo sangue versato. Vieni in soccorso delle nostre necessità. E ottieni dai cuori della Santissima Trinità. L'esaudimento delle nostre intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. San Maurizio. Pregate per noi.